le olive stanno arrivando a maturazione ma se si vede qui sto in penombra quest'anno c'è qualcosina in più vediamo belle riuscirò a fa un po l'olivo però se ripiove del brutto ha voglia a cascar qua belle micio che ti è successo che piangi è un gesto cellulare porca miseria ce volate ecco vedi quasi vede meglio lì in penombra speranzoso